Le lacrime della madre è un po' il tema, o meglio, e l'immagine che stiamo contemplando in questi giorni, le lacrime di Maria, grazie alle parole, alle riflessioni, alla preghiera di Giovanni Paolo II, fatta proprio nel santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, il 6 novembre del 1994. Le lacrime della madre, che sono lacrime di dolore, lacrime di preghiera, ma anche lacrime di speranza. La speranza che viene dalla efficacia, dalla fecondità di queste lacrime. Noi certamente parliamo di lacrime vere, perché come abbiamo visto, ci sono le lacrime di coccodrillo, di quelli che stanno sempre a piangere, ma di fatti non sono lacrime che nascono dal cuore, oppure le lacrime di camaleonte, quelle fatte al momento opportuno, o così, le lacrime dell'immaturità, del vettimismo. No, noi parliamo di lacrime del cuore, di un cuore puro, di un cuore fortemente innamorato, ma anche fortemente pentito di aver offeso, di aver ferito il proprio amore, il proprio amato. E Maria piange, piange per noi, ma piange non per fare scena, piange perché il cuore di una madre è preoccupata, è ferita dalle ferite che l'uomo fa all'altro uomo, è così che l'uomo fa a se stesso, ma anche a Dio. Lacrime di speranza perché è possibile, dopo che Maria prega per la nostra salvezza, dopo che Maria ci indica, ci sprona a salvarci, bene, è possibile ricominciare. E ricominciare sempre con Dio vuol dire ricominciare ogni volta, tutte le volte. Non c'è un limite in Dio quando si tratta di darci la possibilità di cambiare, quando si tratta di darci la possibilità di pentirci, quando si tratta di darci la possibilità di tornare a casa. In Dio non c'è un limite. Dio vuole semplicemente un cuore pentito, un cuore in lacrime. E Maria ci aiuta. Ecco da oggi chiediamo a Maria il dono delle lacrime. Il dono del pentimento. Diciamo, Maria, bagna i nostri cuori, aridi. Toccali e aperli alla speranza e alla salvezza. E preghiamo con l'ultima parte della preghiera di Giovanni Paolo II a Siracusa, quel 6 novembre del 1994. O Madonna delle lacrime, guarda con materna bontà al dolore del mondo. E quando dolore c'è oggi nel mondo. Asciuga le lacrime dei sofferenti, dei dimenticati, dei disperati, delle vittime di ogni violenza. Ottieni a tutti lacrime di pentimento e di vita nuova, che aprono i cuori al dono rigenerante dell'amore di Dio. Ottieni a tutti lacrime di gioia dopo aver visto la profonda tenerezza del tuo cuore. Amen. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.